L'amatori Catania rischia di non iscriversi al prossimo campionato di Serie A2, ma lo fa tra l'indifferenza della città. Ascoltiamo. Se le dico amatori, lei cosa mi risponde? Amatori, non so cosa risponderle. Non so rispondere su queste domande. Conosce l'amatori Catania, la squadra di rugby? No, mi dispiace, non amo il calcio. La squadra di amatori Catania è il rugby. Se le dico amatori, lei cosa mi dice? Amatori del mare. Amatori Catania, la storica squadra di rugby. Ho capito, no, io non seguo il rugby, magari di calcio mi può parlare, ma di rugby. Certo, certo, rugby. Una squadra importante di rugby che portò anche il rugby in Serie A di Catania. Sai che non riuscirà ad iscriversi per mancanza di fondi? Questo è un peccato soprattutto per la città di Catania, non per altro. Spero che troveranno qualche soldino in più per poter scrivere la squadra di nuovo. È un peccato effettivamente, però capita, penso come capita, in molti altri sport di minore interesse. Perché c'è uno sport che è il calcio che sembra racchiudere l'interesse di tutti, invece gli altri sport non riescono ad andare avanti per mancanza di fondi, di sponsor. È una realtà che conosco, anche perché io facevo atletica, correvo per l'atletica Catania, anche l'atletica Catania aveva mancanza di fondi, quindi faceva fatica a tirare avanti. Non è seguita dalle istituzioni, mi sembra una società così, abbandonata. Mi dispiace perché chiaramente ogni cosa che dà lusso alla città e viene meno è una situazione sgradevole, diciamo. Ma la prima società che finisce così, perché io mi ricordo che c'era il gravino calcio femminile, non aveva nessuna sponsorizzazione, oggi non c'è più il gravino calcio femminile. La mancanza di fondi si sente un po' ovunque, in tutte le parti d'Italia, del mondo, della Sicilia, di Catania. È un male comune, credo.